Salve a tutti ragazzi, eccoci qui oggi con un nuovo video. Voi direte perché sto ridendo? Sto ridendo perché ho già iniziato quest'intro tre volte e quindi questa è l'ultima volta o la va o la spacca. Quindi avevo detto che ho raggiunto i metodi 150 like e avrei aperto la prima tin. Non ho ancora raggiunto i 150 like solamente perché sono passate poche ore dalla pubblicazione e quindi se avessi fatto i 150 like sarebbe stata una cosa quasi diciamo molto sovraumana dato che in poche ore non posso fare i 150 like con il numero di iscritti che ho. Quindi ho deciso comunque di portarvi subito l'apertura di questa tin lo stesso giorno perché oggi mi dirà va bene e quindi voglio portarvi subito l'apertura di questa tin. Quindi andiamo con la sigla e poi iniziamo con l'apertura della tin. Sigla. Allora ragazzi andiamo subito con l'apertura di questa tin. Taglierino. Facciamo sotto se no poi mi si graffia tutto quanto così almeno qua non si vede. L'avrò aperta o non l'avrò aperta? Non ho aperto un bel niente. Ok ci siamo ragazzi. Non è così che si usa il taglierino però diciamo un po' improvvisato. Allora togliamo la pellicola che protegge tutto quanto la tin. Togliamo questo. Estraiamo la carta. Sto registrando? Non vedo? Sì sto registrando quindi. Estraiamo la carta. Senza rovinarla. Eccolo qua. Guardate che spettacolo OOGX. Spettacolare ragazzi. Sun and Moon 57. Scottata della finisce 180. Super carta ragazzi. Mettiamola subito nella sleeve. Anche se le sleeve credo di averle finite. Ah no ce l'ho ancora. Pensavo di averle finite tutte perché oggi ho sistemato anche le carte nell'album già che c'è stavo che c'avevo un po' di tempo quindi. Ecco qui. OOGX. Slippato. Mettiamolo subito dietro da sfondo sotto al crocodile fra i due OOGX Hyper. Poi togliamo la plastica. Togliamo la carta codice. E abbiamo all'interno quattro pacchetti ragazzi. Abbiamo un pacchetto. Sì furie volanti che spettacolo. Abbiamo allora un ombre infuocate. Un guardiani nascenti. Un sole e luna normale più furie volanti. Quindi richiudiamo la tin. Facciamo così. Aspettate ci metto poco eh. Mettiamo O dietro da sfondo. E OOGX sopra. Ok. Abbiamo questi quattro pacchetti. Facciamo due e due. Li apriremo nell'ordine non so quale. Allora togliamo le sleeve che ci impicciano. Quindi siamo pronti per l'apertura di questi quattro pack. Allora. Sono pronti. Ma che strillate che sto a fare il video. Mannaggia. Niente ragazzi. Ogni volta che faccio il video voi dovete sapere che c'è qualcuno che si mette in giro per casa a strillare. Boh. Non so se lo fanno apposta. Comunque. Io direi di iniziare con un guardiani nascenti. Così a caso. Allora. In guardiani nascenti io vorrei trovare tanto l'energia doppia in colore. Dovrebbe essere i guardiani nascenti. Se non mi sbaglio. Sì. Speriamo che sia fortunato. Allora. Tric a quattro. E andiamo con. Energia. Mettiamo a fuoco. Magari che è meglio. Ok. Energia. Allenatore. Machok. Glyscore. Wimpod. Machamp. Machamp. Perché Machamp non lo so. Machop. Wildmer. Stuffle. Funtamp. Sharpedo reverse. Lunala. Raro. Niente da fare ragazzi. Il primo pacchetto è andato molto male. Perché ho trovato una reverse. Una rara. Il pacchetto qua mi piccia. Lo togliamo. Allora. Secondo pacchetto. Devo scegliere fra questi tre ragazzi. Non so quale scegliere. Io andrei con. Sole e luna. Non so perché. Voglio lasciarmi tipo uno degli ultimi. Più uno dei più vecchi. Per ultimi. Quindi andiamo con sole e luna. Che è un'aglia di mezzo. Allora. I pacchetti non ci ho fatto. Ah sì. Sono in italiano ovviamente. Perché la pina era in italiano. Carta. La carta codice. Stavolta sta in questo verso. Soporno solo. Cambiano sempre. Quindi. Tric a quattro. E andiamo con. Energia. Allenatore. Spinda. Allenatore. Rogue and Rolla. Growlite. Miao di Alola. Dupider. Diglett di Alola. Araquani. Reverse. Primarina. Raro. Due reverse acqua ragazzi. In due pacchetti. Quindi adesso. In quest'altro pacchetto. Troverò sicuramente un'altra acqua reverse. Andiamo con furie volanti. Lasciamo ombre infocate. Dato che questo qui. Sono le tinne di Marsha. Dov. O. E di Necroz. Ma quindi. Lasciamo questo qua per ultimo. Andiamo con. Deoxys. Con un pacchetto furie volanti. Ragazzi. E' tantissimo che non apro un furie volanti. Quindi. Speriamo di trovare qualcosa di buono. Allora. Intanto lasciate subito un bel like. Così. Mi aiutate a portarmi fortuna. Per questa apertura. Al trick. A tre ovviamente. Perché è furie volanti. Andiamo con. Dustox. Energia. Allenatore. Voltorb. Inkai. Benacol. Olucia. Kaskun. Telov. Reverse. Swellov. Telov e Swellov. Ragazzi. Non mi serviva nessuna delle due. Però. Vabbè. Niente. Dai. E' carina la combinazione. Su. Con l'evoluzione. Dai. Lasciate un like. Per questa evoluzione. Faccio finta di essere contento. Ma in realtà. Mi sta rodendo. Quindi. Ultimo pacchetto di questa tin. Di OGX. Sole e luna. Ombre e un focale. Speriamo di trovare qualcosa di buono. Altrimenti. Altrimenti. Sarà andata molto male. Allora. Tarta codice che togliamo. Tric a 4 che tricchiamo. E andiamo con. Energia. Simipur. Electabuzz. Allenatore. Tangela. Rayorn. Riolu. Cutiefly. Dynamo. Oddish Reverse. Cioè. Non poteva finire peggio di così. Un video con un Raticate di Alola. Waffancina. Quindi. Purtroppo non ho trovato niente. Non ho trovato niente. Comunque ragazzi. Vi voglio far salutare da OGX. Spero il video vi sia piaciuto lo stesso. Lasciate un bel like. Iscrivetevi al canale. Se ancora non siete iscritti. E ci vediamo al prossimo video. Alla prossima tin. Sperando che sia più fortunata di questo. Quindi. Like. Subscribe. E share. E tutto quello che volete. Saluti da OGX. Ragazzi. Ve l'ho già detto prima. Però. Devo finire sempre con i saluti da OGX. Saluti. Menti a fuoco. Spettacolo. Ciao.